Uno arriva a fare il sindaco, anche credo dopo una certa preparazione, una certa esperienza, quindi non so anche bene, io aspetto il candidato del 5 Stelle, sono molto curioso e potrebbe anche sorprendere tantissimo perché potrebbe veramente sbaragliare tutto. D'altra parte c'è Giacchietti che mi sembra pure lì una persona per bene e poi c'è questo fatalismo che, vediamo, non ho certo io la risposta a questo.